Salve a tutti, anche a te, che magari sei nuovo e ti sei imbattuto per caso in questo video. Io sono Gio, ed oggi vi parlerò e ti parlerò della mia personale esperienza su Final Fantasy 7 Remake. Partiamo dal presupposto che io sia un conoscitore della saga ed amante dei giochi di ruolo, che vuole esprimere un suo parere e che l'internet me ne dia la possibilità. Per cui, ciò che potresti sentire potrebbe piacerti o no. Ti chiedo solo di rispettare la mia idea e la mia personale opinione. Detto ciò, buona visione. Questo video contiene spoiler, per cui, se non hai ancora completato il gioco, chiudi il video. 5, 4, 3, 2, 1... Bene. Adesso parliamo con chi ha voglia di ascoltare l'opinione di un'altra persona. Cominciamo pure. Partiamo col dire che questo è un remake, non remaster. Quindi non copia e incolla, non ctrl-c, ctrl-v, né niente di tutto quello che potete pensare, ma un gioco nuovo, che non per forza debba essere cominciato da zero. E questi autori lo sanno. Basta cambiare qualche piccola cosa e voilà. Così come è successo in questo titolo. Ci sono diversi punti che mi hanno colpito e che quindi voglio analizzare con voi. 1. Non credo che abbiano rovinato nulla. La motivazione è semplice. Il gioco, come detto poc'anzi, è un remake. Quindi la mamma Square ha il pieno diritto di fare ciò che vuole con proprio figlio, ovvero Final Fantasy. E noi non siamo nessuno per impedirlo. E dire cosa si può e non si può fare. Siamo tutti amanti della saga. Chi più, chi meno. Ma non si può negare che il lavoro dietro sia ineccepibile. Un progetto ambizioso che per alcuni può rasentare il profano, ma che così di base non è. Io stesso, in live su Twitch, ho esaltato la presa di posizione ed il coraggio che gli autori hanno mostrato, prendendo in mano questo titolo, per rivoluzionarlo in toto. Anche il finale, che lascia carta bianca, è un'uscita magistrale. Ci hanno riassunto il vecchio Final Fantasy, per darcene uno nuovo. Il vero problema di tutto questo è, quanto ci costerà adesso, completarlo e vedere questo nuovo finale? Riuscirà la vecchia generazione a chiudere il cerchio o saranno i nostri figli a farlo? Spero vivamente che non finisca tutto come Kingdom Hearts, che bisogna aspettare altri 10-15 anni per ritrovarsi ancora al punto di partenza. Sarebbe abbastanza stucchevole e irritante sotto alcuni punti di vista. Preferirei una storia chiusa, anche in modo rocambolesco, piuttosto che aspettare altri 10 anni, no? Per cui, se vogliamo parlare di aspettative, non sono assolutamente insoddisfatto, ma forse un po' impaurito per quello che sarà il futuro del progetto. Infine, penso e ribadisco che lo spirito di Final Fantasy VII non sia stato rovinato, ma ampliato, verso un futuro che potrebbe accontentarci tutti o deludere tutti. Quindi sarà un vero e proprio tutto o niente. Non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà. 2. Eris non ce l'ha raccontata giusto. Ragazzi, è abbastanza palese che Eris rappresenti lo spirito vero e proprio di questo remake. Lei sa già tutto e permette anche agli altri di sapere tutto, semplicemente toccandoli. Attenzione però, da quello che si vede, lei è capace a far vedere solo quello che vuole, in modo tale da essa stessa non fare spoiler. Ovviamente grazie. Ci sono diverse scene che rappresentano la sua onniscienza. Farne un elenco sarebbe abbastanza ridondante. Però alcune di quelle scene che mi sono rimaste in testa sono Quella dove ammette di conoscere Sephiroth, distogliendo lo sguardo da Cloud che in quel momento parlava di lui. Nelle scene delle fognature, dove afferma a Tifa che il futuro si può cambiare. Dove recupera Marlen e le fa promettere di mantenere un segreto. A proposito di Marlen, quando Barret le dice che deve andare a salvare Eris, e quindi deve andare via, avete notato che la bambina stava per dire tutto e poi si è bloccata da sola? Brava bimba, nessun spoiler please. Ma tornando a noi, Eris rappresenta la volontà di cambiare il futuro, e quindi un remake di ciò che effettivamente sarà, sia il gioco che il suo destino. Alla fine, anche lei si ritroverà spaisata, e senza sapere ciò che effettivamente sarà il futuro. Forse un messaggio che ci è stato lasciato dagli autori, dove Eris, incarnando il remake, ci sta dicendo che il futuro sarà diverso. Bello o brutto non lo sappiamo, ma diverso. Quindi per assurdo potremo anche constatare che i Numen in realtà siano i puristi? Ovvero coloro che volevano Final Fantasy VII come prima, ma in una nuova veste HD? Quindi, ogni personaggio rispecchia una volontà diversa. Cloud, ad esempio, cosa rappresenterebbe? I dubbi dei nuovi giocatori? Di quelli vecchi? Chi lo sa. E Zack? La volontà di perseverare, di continuare, nonostante tutti gli vadano contro? Nomura, cosa stai cercando di dirci? 3. I Numen, chi sono? Fondamentalmente sono i protettori del destino del mondo, a quanto ci viene detto. Inizialmente pensavo potessero essere gli antichi, ovvero i Cetra, dato che comunicavano e proteggevano Eris in determinate situazioni. Il dubbio si dilegua quando poi, effettivamente, sono tutti a poterli vedere. O meglio, tutti coloro che interagiscono col destino. E che tentano di cambiarlo. Guardasi l'Avalanche, che voleva partire in missione senza Cloud, facendo in modo di renderlo partecipe, slogan o la caviglia Jesse. O condannato il povero Wedge, che inizialmente si salva, ma dopo nella torre She-Ra... Ma soprattutto salvando Barret, dalla morte, dopo che Sephiroth lo aveva trafitto. E Rufus letteralmente bloccato all'interno del palazzo She-Ra con Sang. Quindi, ci troviamo davanti ad un qualcosa di più grande di noi. Che Eris vuole piegare? Ma che forse Sephiroth vuole sfruttare. Si può veramente piegare il destino? No. Ciò che ci è stato insegnato è che il destino è immutabile. Però è anche vero che in diverse opere, il destino ha rappresentato un nemico, che poi sconfitto ha permesso la liberazione. La presa di coscienza che tutti possiamo essere e fare ciò che vogliamo. Infatti, Zack si ritrova vittorioso, incredulo e pieno di una nuova forza, che lui stesso non riesce a spiegare. Mentre sullo sfondo i Numen esplodono. Quindi, che la morte di Zack fosse un punto immobile per la salvezza del pianeta innescando gli eventi di Final Fantasy VII? Quindi, cosa succederà adesso che Zack è vivo? Cloud si ricorderà di lui nonostante tutto? Il pianeta sopravviverà insieme a Zack oppure il loro destino è unito? Da adesso, i Numen non ci sono più. Tutto prende una piega nuova. Eris non sa cosa succederà e non sa più dare informazioni neanche al gruppo. Hanno un solo obiettivo, ovvero trovare Sephiroth e sconfiggerlo. Opera Kingdom Merziana forse stucchevole? Numero 4 Nomura ci ha fatto capire che la sua idea di destino è abbastanza conforme con Kingdom Hearts, che anche questo progetto prenda le sembianze di Kingdom Hearts? Spero vivamente di no. Altrimenti ci ritroveremo, come un commento che ho letto su internet, con Zack che si ritrova ad essere il nessuno di Cloud o che la Burster Sword si uniscano tra di loro per formare il Keyblade definitivo, o per meglio dire la Burster Sword definitiva. Sarebbe bruttissimo ed assolutamente non accettato sia dai nostalgici che da coloro che vedono il progresso. Sarebbe una caduta di stile unire le due cose. Kingdom Hearts è una cosa, Final Fantasy è un'altra. Vi prego, non fate questo errore. Io personalmente non accetterei nulla di tutto ciò. L'unica mia preoccupazione è questa, che Final Fantasy possa incarnare le interazioni e soprattutto le idee di Kingdom Hearts. Io voglio un'identità ferrea per Final Fantasy. Non voglio che sia ricordato come una copia di Kingdom Hearts. Final Fantasy ha una storia dietro, una community, un amore, che non può essere sostituito in questo modo barbaro. Personalmente ho apprezzato tantissimo il gioco, tranne qualche piccolezza, ma quello è un gusto personale. Però, su quello che è il nome di Final Fantasy, io e credo tutti gli amanti della saga non vogliamo nessuna contaminazione. E non si sta parlando di innovazione, futuro, progresso o cambiamento, ma di vera e propria influenza. Le similitudini sono già parecchie, come le realtà parallele, o peggio, i viaggi interdimensionali, con interazioni di spazio e tempo. Final Fantasy è bello nella sua semplicità. Vi prego, non traditolo. Cosa avremo in futuro? Il futuro è incerto. Forse due realtà differenti, ma con uno scopo comune. Bisognerà sistemare i nuovi eventi e farli coincidere con quelli vecchi. Oppure mandiamo tutta l'aria e facciamo come ci pare a noi. Il personaggio di Zack, oltre a tutta la sua storia, è importante più da morto che da vivo, perché morendo, innesca gli eventi di Final Fantasy VII e, di conseguenza, la salvezza del pianeta. Quindi, cosa succederà a Cloud? Cosa succederà ai suoi ricordi? Ma soprattutto, cosa succederà a Zack? Lo giocheremo nella parte 2? Avremo una nuova storia per lui? Che insieme a Cloud combattono per qualcosa? Come interagiranno i due Cloud tra loro? Ma soprattutto, si incontreranno mai? I dubbi e le domande sono letteralmente infinite. Potremmo parlare di Zack anche per ore, ma la vera questione è sempre la stessa. Dove andremo a finire in tutto ciò? Purtroppo, queste sono cose che io non posso sapere. Mi auguro solo di godermi e potermi divertire, così, come ho sempre fatto, quando ho parlato o giocato un Final Fantasy. Numero 6. Sephiroth buono oppure opportunista? Sephiroth sa che il suo destino non è il migliore. Si preoccupa della fine del pianeta, ma non ne ascolta e lamenti. Per cui, vuole davvero salvare il pianeta perché ci tiene o vuole salvarlo in modo tale da non sparire con esso? Lui è già morto, lo sappiamo tutti, ma se il destino potesse cambiare insieme a quello degli altri, ci ritroveremo ad avere un Sephiroth amico o nemico? L'obiettivo finale è lui al momento, Cloud lo afferma alla fine, solo che da questo momento in poi anche Eris non sa che cosa succederà e per l'appunto il viaggio ignoto sta per cominciare. Quindi non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà. Avremo la possibilità di capire realmente le intenzioni di Sephiroth, di scoprire chi è veramente, anche perché il boss finale non è rappresentato dal vero Sephiroth, ma da un'unione dei Numen che gli hanno dato forma. Lui ci ha sempre aspettato ai confini del mondo, aprendo quel portale che manco Vergil in Devil May Cry poteva fare meglio, ma vabbè, scherzi a parte. Sephiroth è decisamente più forte di Cloud, come sottolinea il fatto che nello scontro finale lo disarma con una facilità impressionante, dicendogli che non è ancora pronto e che addirittura avrebbe potuto unirsi a lui per salvare il pianeta. Ma è davvero questo il suo scopo? Il pianeta? Io non credo. Io credo che voglia sfruttare le avversità del destino per liberare se stesso dal destino e dalla sua condanna a sparire con il pianeta, diventando nuovamente reale e più forte di prima. Genova è sparita, Ojo lo vede e se ne compiace, quindi Sephiroth, cosa vuoi davvero? Con la sconfitta dei Numen è stato davvero liberato? Cosa succederebbe se Cloud si unisse a lui durante quei sette secondi restanti? Lo combatterebbe il Cloud amico di Zack? Oppure lo combatteranno insieme in una nuova duplice alleanza? Non saprei, ci sono ancora diversi elementi da analizzare, magari con DLC che sicuramente placheranno l'attesa e faranno crescere l'hype arricchendo la storia? Questo non c'è dato saperlo. Io per il momento concludo qui. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se così fosse fammelo sapere tramite un like e un commento. Fammi sapere anche qual è la tua opinione e io come sempre vi aspetto col prossimo video. Bye bye!